Dopo due vittorie, soprattutto dopo una serie di risultati positivi che ci hanno portato a capitalizzare anche quelli che sono stati i pareggi iniziali, che ci avevano un po' fermato per quanto riguarda la classifica, però devo dire che l'aspetto mentale con cui arriviamo in questa gara è buono, anche quello fisico, nonostante ci sia ancora qualche residuo della prestazione, del tanto speso in campo nella partita contro Latina, perché non è stato semplice averla meglio contro una squadra come quella, come dicevo prima, della Latina. Adesso siamo arrivati a questo match, ci arriviamo bene, ci arriviamo bene noi, ci arriva anche molto bene l'Avellino, che non lo dico perché è una frase di costanza, ma lo penso realmente, io credo che per quello visto in queste prime nove giornate, al di là della classifica, che per qualcuno forse è ancora un po' deficitaria, vedi magari un po' il Catania, ma credo che Avellino insieme al Catania e al Benevento siano le squadre più accreditate a giocarsi un po' sul sole fino alla fine, per organico, per blasone, per struttura, per storicità anche delle piazze stesse, quindi sarà bello arrivare a giocare questa partita, ci arriviamo in un momento felice per noi, cercheremo di continuare sapendo che di fronte ci sarà una squadra difficile da superare.